Dal petrolio al gas, addio alle cisterne della Fox Turismo e Pesaro 2024, Vimini replica Filippetti Arriva il Giro d'Italia, ecco come cambia la viabilità Vallefoglia torna alla mostra del libro per ragazzi VL, brindisi ai playoff e concentrazione su Milano Una buona serata cari amiche e amici di Rossini TV Per questo nostro nuovo spazio dell'informazione Telegiornale di giovedì 11 di maggio Che apriamo con un'importante operazione di riconversione industriale Che riguarda la città di Pesaro Dopo decenni spariranno infatti le torri cilindriche della Fox Petroli Storica azienda energetica pronta a una nuova svolta più ecologica Sono lì da decenni a troneggiare come inconfondibili torri industriali grigio-arancioni A guardia di quello che una volta era l'ingresso di Pesaro Poi inglobato dalla progressiva espansione della città Ora invece i maxi serbatoi cilindrici della Fox Petroli Sono in procinto di sparire, almeno per buona parte Nei giorni scorsi è stato infatti presentato dalla Commissione Ambiente del Comune di Pesaro Il piano da 50 milioni di euro che prevede la riconversione degli attuali serbatoi di deposito petrolifero In impianti dedicati allo stoccaggio di gas liquefatto Un cambio di destinazione energetica presentato dai vertici della Fox Petroli Che modificherà la vocazione industriale in una svolta più ecologica insostenibile In linea alle normative internazionali E al contempo riqualificherà e cambierà l'impatto visivo dell'intera area della Tombaccia Dalla zona di Via Senigallia saranno eliminati 130 mila metri cubi di deposito petrolifero In favore di due linee di liquefazione del metano per 140 mila tonnellate di gas Nonché saranno rimossi 15 mila metri cubi di depositi in favore di 2 mila metri cubi di stoccaggio gas L'impatto visivo cambierà notevolmente Dai 15 serbatoi verticali attuali a 4 molto più piccoli e a 5 di dimensioni più importanti Il sito attuale della Fox reentra tra l'altro nella realizzazione nazionale del gasdotto Che transiterà sulla dorsale adriatica dalla Puglia fino al nord E collegherà il trattamento del gas liquefatto fra l'area di Via Gagarin e quella di Villa Ceccolini In cui si sta realizzando una stazione di pompaggio E hanno fatto discutere le dichiarazioni di ieri di Nardo Filippetti Che ha rilasciato anche ai nostri microfoni In cui il presidente di Lindbergh Hotels In occasione dell'accordo di collaborazione con Inside Marke Live Ha stigmatizzato lo scarso appeal che ha Pesaro come destinazione turistica A dispetto dei proclami di Pesaro 2024 Oggi è arrivata la replica del vice sindaco Daniele Vimini Non sono passate inosservate al comune di Pesaro Le dichiarazioni di Nardo Filippetti Presidente di Lindbergh Hotel & Resort Che in occasione del Via Ala Partnership Della catena alberghiera di qualità Con l'unione dei tour operator di Inside Marke Live Ha stigmatizzato il tallone d'Achille Di una Pesaro che a dispetto dei proclami 2024 È ancora molto indietro sul valorizzarsi come destinazione turistica Soprattutto sul piano internazionale Oggi attraverso una nota replicata a Filippetti Il vice sindaco Daniele Vimini Additando come un errore Annaquare la comunicazione Concentrandosi su cosa mancherebbe E non sui grandi punti di forza della città Del sistema dell'incoming E del lavoro degli operatori turistici Alberghieri e della ristorazione Per Vimini Se è vero che il mare è un punto di forza da valorizzare È altrettanto vero che in estate È già difficile trovare posto nelle strutture Così come di ombrelloni Quindi si può parlare al massimo Di alzare la qualità dell'offerta Cosa a cui servirà Pesaro 2024 E a cui deve corrispondere Uno sforzo degli operatori dell'accoglienza Per Vimini è altrettanto sbagliato Disprezzare il turismo sportivo Che non sarà il più alto spendente In termini di camera d'albergo Ma che porta ricchezza in generale alla città Oltre a contribuirne alla conoscenza e all'immagine Un turismo sul quale il comune partecipa Anche direttamente Esentando gli under 18 Ad esempio della tassa di soggiorno Un turismo che spesso supera i numeri stessi Dell'accoglienza della città Serve più considerazione anche in virtù dell'anno 2024 Dalle strategie turistiche della Regione Marche Sia in termine di inclusione Sia in termine di condivisione delle scelte Vimini ha raccolto con piacere Lo spunto emerso da Filippetti sul web marketing Argomento sul quale si può e si deve fare meglio E per questo formulerà allo stesso Filippetti Una proposta di collaborazione diretta In un settore così strategico Il prefetto Emanuela Greco Ha presidiato il comitato di sicurezza Con tutte le forze di polizia provinciali In vista dell'arrivo del Giro d'Italia Sabato 13 maggio nel nostro territorio Con la tappa Terni-Fossombrone È stata predisposta una sospensione e chiusura Alla circolazione dei tratti di strada Percorsi dai ciclisti Da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa Fino al passaggio dell'automezzo Fine gara ciclistica Tutto il percorso sarà presidiato dalle polizie locali L'ingresso del Giro d'Italia È previsto nel comune di Cantiano Alle ore 14.40 E dopo aver attraversato i comuni di Cagli Acqualagna, Furlo, Isola del Piano e Monte Felcino Arriverà a Fossombrone poco prima delle ore 17 E spostiamoci ora a Vallefoglia Dove il sindaco Palmier Ucchielli Ha dichiarato questa mattina Che la nuova piazza A fianco della nuova sede comunale Sarà inaugurata venerdì 2 giugno Taglio del nastro Che avverrà durante la celebrazione della Festa della Repubblica I lavori stanno proseguendo con la sistemazione delle panchine E la piantumazione di alberi Per regalare alla città di Vallefoglia Un nuovo punto di ritrovo e iniziative E restando a Vallefoglia Da questo sabato per una settimana Torna la mostra del libro per ragazzi Un evento culturale particolarmente longevo Che taglia il nastro alla sua 44esima edizione Con un programma nutrito e significativo Prende via la 44esima mostra del libro per ragazzi Nella città di Vallefoglia Dal 13 al 20 maggio Nella palestra comunale di Bottega E' una mostra che lo testimonia il fatto che 44 anni che si fa E che ha molta importanza per il nostro territorio Il valore educativo e formativo e sociale Per famiglie e giovani del nostro territorio Al mattino si prevede ovviamente la presenza delle scuole Delle classi che faranno visita alla mostra E il pomeriggio c'è l'ingresso libro con tanti e tanti laboratori Tanti laboratori con delle persone, delle vecchie conoscenze Come Michela Gaudenzi, come Giancarlo Guccioni L'associazione Unicef, la libreria di Montecchio Libreria Piera Libri E quindi proporanno dei laboratori molto interessanti Quest'anno ci sono anche due novità di rilievo Sia l'apertura e la chiusura della mostra Ci sarà il pedagogista e illustratore Walter Baruzzi Che presenterà una propria mostra Invece la chiusura ci sarà delle letture sceniche recitate Da parte dell'associazione culturale Teatro delle Isole E quindi queste due aggiunte hanno arricchito il programma quest'anno Quindi diciamo a tutti di far visita alla mostra Che saranno degli eventi molto importanti di rilievo Quest'anno la mostra si intitolerà La fabbrica del libro Ed è un omaggio a Renata Gustoli Un'artista originaria di Mercatello sul Metauro Quindi delle nostre zone E per noi è importante ricordarla Perché è stata l'artefice di tante iniziative Che sono state organizzate nelle biblioteche Sin dalla nascita delle biblioteche Dell'ex comune di Colbordolo La collaborazione come biblioteche Pian del Bruscolo Comune di Vallefoglia Con le scuole locali È sempre un importante progetto Che noi proponiamo a tutte le scuole del territorio Dove i ragazzi vengono in visita nelle biblioteche Facciamo scoprire insomma il mondo magico della biblioteca E proponiamo dei progetti Che quest'anno finalizzati come tutti gli anni alla mostra del libro Hanno scoperto un artista E hanno scoperto anche un altro modo anche di vedere il libro Attraverso i sensi Perché molti dei libri che Renato Agostoli ha illustrato Sono proprio delle vere e proprie opere d'arte tattili Quindi abbiamo fatto anche dei laboratori tattili in biblioteca Dove i bambini dovevano senza l'uso della vista Comunque riconoscere dei materiali Con i quali poi hanno realizzato le loro opere Che porteremo Che esporremo alla mostra Una mostra importante Che è diventata oramai un punto di riferimento Nel territorio della nostra provincia delle Marche Probabilmente quel bel manifesto Che vedete Andrà anche alla mostra del libro a Torino La mostra è un tentativo Di far nell'era dei media Di far leggere un libro Di scoprire come costruire un libro La cultura è anche un'attività Importante in pezzo del sistema economico e produttivo Perché più si cresce culturalmente Infatti anche democratico Di conoscenza Di mettere le persone Nelle stesse più o meno identiche condizioni E vi segnaliamo che sono stati eseguiti I primi interventi chirurgici Di sostituzione totale del ginocchio Nel blocco operatorio Dell'ospedale Santa Croce di Fano Dell'Ast di Pesaro Urbino Una novità importante Che dopo dieci anni riporta Fano Una struttura e un'organizzazione capace Di effettuare interventi chirurgici Di ortopedia maggiore Ed in particolare Di chirurgia protesica Il 16 maggio L'Università di Urbino Conferirà il sigillo d'Ateneo A Tonino Lamborghini Uno dei più importanti imprenditori italiani Leader dell'omonimo impero industriale Nel campo meccanico e automobilistico L'appuntamento è per martedì alle 16 Nell'Aula Magna del Rettorato Dove il Rettore Calcagnini Conferirà la massima onoreficenza Dell'Ateneo Ad un'esemplare storia manageriale Capace di esportare nel mondo L'Italian Style Ed ora ci spostiamo a Gabice Mare Che da anni in questo mese di maggio Si è ritagliato un'importante nicchia Di mercato turistico Con i raduni d'autostoriche Alla scoperta del nostro territorio provinciale Rossini TV Questa mattina all'hotel San Marco Di Gabice Mare Una città quella di Gabice Che nei decenni si è costruita Una importante nicchia di mercato turistico Quello relativo alla ricettività Delle auto d'epoca Delle autostoriche Degli eventi ad essa correlate Evento Principe LMG Event Che torna in questa settimana Nella prossima settimana Dal 22 al 29 maggio Che sarà preceduta in questo weekend Dal 12 al 14 maggio Da un altro evento Il raduno delle Fiat Barchette Un'importante doppio evento Di promozione territoriale Che parte da Gabice Per poi valorizzare le bellezze Dell'intera provincia L'MG Il raduno dell'MG Che quest'anno non è solo MG Ma anche altri marchi prestigiosi È un evento storico per Gabice Mare La prima edizione Se non sbaglio era il 1993 Io ero presidente dell'azienda di soggiorno Quando organizzai il primo raduno Insieme a Fabio Filippello Che era il responsabile Del registro MG Italia Che poi è una manifestazione Che è cresciuta notevolmente Ma che rimane ancora dedicata A Fabio Filippello Che è scomparso recentemente Una manifestazione Che quest'anno è preceduta Da un evento unico Che è il raduno delle Fiat Barchetta Che si svolge nel prossimo weekend Ed è unico Perché non ci sono altri raduni Di Fiat Barchetta In giro per l'Italia Quindi con queste due manifestazioni Si conferma il grande lavoro Di accoglienza e di promozione Che svolge l'Associazione Abbergatori Insieme al gruppo Abbergatori Multiservizi Di Gabice Mare Una realtà associativa Che fa i fatti E non le chiacchiere come qualcun altro E che preannuncia una stagione Che noi stimiamo ottima Dal punto di vista turistico Viste le tante richieste Di informazioni Di preventivi Che stanno arrivando a noi Ma a tutti gli alberghi del territorio Peraltro Come diceva giustamente La manifestazione parte a sede a Gabice Ma a Gabice Mare Ma coinvolge poi Buona parte del territorio Dell'itinerario della bellezza Molti comuni del nostro entroterra Sono coinvolti in questa iniziativa Anche con una partecipazione Da parte delle Proloco Di altre realtà associative Che collaborano a questa iniziativa È un evento di due giorni Che fa delle visite sull'entroterra Fa delle gite in bar Che insomma Le facciamo visitare Anche Gabice Come è realmente Perché oltre Avere un evento Che aiuta gli alberghi Per fare la promozione In bassa stagione Aiuta sì Che questi signori Vendendo il nostro paese Vendendo l'entroterra È una promozione Che quando tornano a casa Ci possono promuovere Tutto il territorio E anche questa località È un evento di qualità Siamo giunti alla quattordicesima edizione Quindi il ringraziamento Va naturalmente Alla associazione alberghiatoria Al Confcommercio Che insieme all'amministrazione Ha portato avanti Sempre questa iniziativa Che si tiene poi Ogni due anni Quindi è vero Che la quattordicesima edizione Ma significa 28 anni di presenza Saranno 50 gli equipaggi Presenti Che arrivano Poi da tutto il mondo Quindi danno lustro E sicuramente Gabice Mare Nell'ambito della promozione Deve fare in modo Di poter ospitare Eventi di qualità Grazie Dalle auto storiche Alla bicicletta Gabice Mare Da domani Si mette sui pedali Con la tre giorni Dell'ottava Gran Fondo Squali Per quest'anno Suddivisa in tre percorsi Fra Cattolica E Gabice Mare Passando anche per Tavuglia Una corsa ciclistica Che in otto anni Si è guadagnata La massima attenzione Fra le gare Di fondo Del panorama nazionale Tant'è che sono attesi Circa 3.000 partecipanti Un evento Che sarà seguito Dalle telecamere Di Rossini TV E che vi mostreremo Lunedì Nei nostri spazi informativi Dal ciclismo Al basket Passando dunque Per la VL Che ieri sera Si è radunata Per la tradizionale Cena di fine stagione Fra brindisi All'obiettivo Playoff raggiunto E tensione calibrata Su gara 1 Di sabato a Milano Fra la vittoria Fra la vittoria di domenica Scorsa con Tortona E i brividi Playoff Che cominceranno Sabato a Milano La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Si è radunata Ieri sera Nella tradizionale Cena di fine stagione Al ristorante La Vecchia Cantina Offerta dal titolare Alfredo Giordani E da Gilberto Bavosi Dell'omonima Macelleria Ai tavoli Del locale Di Trebiantico Radunata L'intera squadra La società Parte di consorzio Di sponsor E il comune di Pesaro Rappresentato Dall'assessore Mila della Dora Che hanno brindato Al raggiungimento Dell'obiettivo playoff Il primo mio discorso Con Ario Prima della stagione È stato Coach Ripetere il risultato Dell'anno scorso Secondo lei Era impossibile Tu hai grande esperienza Dai ti prego Vieni qua Ci saliamo Stiamo bene insieme Facciamo un buon anno Insieme E così Ho detto Ok dai andiamo Siamo riusciti Dopo 14-15 anni Non mi ricordo Come ha detto lui Aggiungere un obiettivo Entrare in Semifinale Di Coppa Supercoppa E nello stesso tempo Aggiungere Obiettivo O traguardo Stra importante Questo playoff Nello stesso tempo Nessuno parla molto Ma secondo me Molto molto importante Abbiamo Preso premio Per Più minutaggi Che hanno giocato Che hanno giocato I nostri italiani Che secondo me Vale uguale Come L'altro Due o tre guardie Che abbiamo raggiunto Sono orgoglioso Nello stesso tempo Consapevole Perché sono una persona Stra esigente Consapevole Che negli ultimi due mesi Non siamo stati Come io volevo Come abbiamo abituato A farci vedere Prima parte della stagione Nella nostra tifoseria Ma alla fine Guardando Un anno complesso Una stagione complessa Come è stata questa Assolutamente Abbiamo meritato A finire In playoff Perché siamo stati Solo Secondo me Una settimana fuori Di zona playoff E sarebbe veramente Peccato Per Non finire Come abbiamo finito Con pieno rispetto Tutti gli altri Ricco per Brescia Ma Onestamente Noi meritavamo Molto di più Repigia Ha anche detto La sua Sul recente Plauso Del CT Della Nazionale Pozzecco Che in visita A Pesaro Ha elogiato La crescita Di giocatori italiani Portata avanti Dalla VL Secondo me È un obiettivo Che dobbiamo Mai possiamo dimenticare Che Dobbiamo dare chance Ragazzi giovani Che meritano Che hanno voglia Farsi vedere Sicuro Rispondono alla grande Come hanno risposto Nossi Perché hanno contribuito Veramente Altissimo Il livello Il risultato Che abbiamo fatto E Secondo me Se facciamo Un paragonio Di valore A tutti loro Prima della stagione Adesso Non c'è paragonio Tutti sono cresciuti Valorizzati In modo giusto E Speriamo Vanno avanti così Fra chi è cresciuto Tanto C'è senz'altro Riccardo Visconti Che ha analizzato Momenti delicati Dell'annata E il riscatto Siamo stati Magari Per un periodo Un po' sfiduciati Per le cose Che ci avvenivano Delle partite Perse nel quarto quarto Dove vedevamo Gli avversari Segnare ogni azione Quello sicuramente Ci ha Un po' Fatto perdere Di fiducia Ma non ci ha mai Fatto sfilacciare Io credo che La partita Ripeto Proprio per come È avvenuta La situazione Della sconfitta Anche di Brescia Per come è arrivata Anche con la differenza Di tempo Ci ha dato tanta fiducia Tanto entusiasmo E credo che sia Importante Per goderci Questo momento Perché alla fine Ce lo dobbiamo godere Soprattutto oltre che giocare Sorrisi per l'obiettivo raggiunto Bilanciati dal giusto grado Di tensione agonistica In vista di Milano Conosciamo Sappiamo la squadra che sono Che sono Una squadra molto lunga Ricca di talento Ricca di talenti E niente Noi ci dobbiamo Semplicemente preparare Al meglio Che è quello che stiamo Cercando di fare Da tutto l'anno Poi ovviamente In alcuni momenti Siamo andati meglio In altri siamo andati peggio Però penso che Che il nostro Il nostro obiettivo In questo momento Sia quello di prepararci Al meglio Sappiamo che sarà Una partita molto fisica In cui dovremo stare Concentrati per 40 minuti Perché Se con una squadra normale Un errore lo paghi una volta Con Milano lo paghi due o tre E quindi siamo molto ben Consapevoli di questo Dobbiamo stare molto concentrati E darci di fisico Non c'è nulla da perdere C'è tanto da perdere Ogni partita Palla e rotonda Si gioca in cinque sul campo Sicuro Loro sono una squadra Molto più profonda Molto più Molto più ricca Ma Non andiamo sicuro Con bandiera bianca Consapevoli che sarà dura Ma Andiamo Andiamo a lottare Dare tutto che possiamo fare Vediamo cosa esce fuori Dobbiamo essere pronti Da palla due Concentrati Rispondere Con fisicità Che Dove sono veramente più forti Tutte le palle vagante Che Dove dobbiamo essere concentrati Rimbalzo Dove è uguale all'ultima partita Abbiamo sofferto Perché Tortona ha preso 16 rimbalzi in attacco Tante tante cose Piccole cose Che alla fine Decidono Decidono Come va una partita E con questa notizia Si conclude qui Il nostro notiziario Prima di salutarci Però vi ricordo Gli appuntamenti di serata Questa sera infatti Alle ore 20 e 10 Ci sarà Lo speciale realizzato Sull'inaugurazione Del mercato coperto Campagna Amica A Pesaro E poi a seguire Alle ore 21 e 20 In diretta Dai nostri studi Di Rossini TV Ci sarà L'ultima puntata Con insieme a Canestro Con ospite d'eccezione Yasmin Repege Il coach della Carpegna Prosciutto E Roberto Terenzi Ex giocatore della VL Potrete seguire la diretta Anche sulla nostra pagina Facebook E potrete commentare Al numero Whatsapp 370-366-72110 E poi vi ricordo L'appuntamento Anche per domani mattina Alle ore 7 e 20 In diretta Anche sulla nostra pagina Facebook Con Buongiorno Rossini La rassegna stampa Dei quotidiani locali E adesso si conclude Veramente Questo notiziario Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Un buon proseguimento Un buon proseguimento Un buon proseguimento Un buon proseguimento